C'è un signore che ha una malformazione gravissima alla fascia, ha la fascia proprio come il culo, con uno spacco in mezzo, capirai? Lo viano tutti in giro e lui sta sull'ollo di un osarimento nervoso. A che parte se mette gli soldi da parte va a Zurico in una clinica specializzata per le plastiche fasciali, dove c'erano proprio i divi di Hollywood, no? E si fa operare, pagano un botto di soldi e si fa operare. Finisce l'operazione, o sfasciano, e i dottori gli dicono guardi il suo problema è risolto, stia tranquillo, può stare tranquillo nella vita, adesso riprenderà anche la fiducia di se stesso. Questo, capirai, torna tutto felice a casa, mentre sta camminando per tornare a casa, su un marciapieto vede un tombino aperto, che fa per curiosità? C'è da fascia dentro, come da fascia dentro uno che fa così? Oh, ma che vuoi cagare qui dentro?